la rinascita delle città e i comuni, così almeno non me ne dimentico come è successo la volta scorsa quando abbiamo fatto la stregonneria e poi vabbè, non c'è problema comunque però, perché tanto registro anche su Facebook, su Instagram, recupero tutto come ho fatto proprio la volta scorsa. Siamo pronti allora? Possiamo partire per questo viaggio negli anni immediatamente seguenti l'anno 1000, la rinascita delle città e i comuni. Incominciamo quindi col dire, guardando proprio questa cartina dell'Italia, come si siano costituiti dei comuni, come vedete, sin dai primi anni dopo l'anno 1000 o primi decenni, ecco in particolar modo il comune di Parma. Il comune di Parma è il primo a costituirsi proprio come comune indipendente, per tutta una serie di motivi, probabilmente perché è quello più lontano dalla invadenza, tra virgolette, del Papa, poiché teoricamente Parma appartiene allo stato della Chiesa, se non erro. O comunque, diciamo, è proprio una terra di nessuno, chiamiamola così, no? Lontanissima quindi Parma dai poteri imperiali e dal potere papale, quasi, diciamo così, a metà, si può dire, da queste sedi di questi grandi poteri dell'epoca e riesce a emanciparsi. Tant'è vero che Parma, recentemente, sapete cosa ha detto Parma? La città di Parma si arroga l'onore di essere stata la prima ad avere un'università e quindi c'è una disputa con Bologna, che ha sempre detto, insomma, di essere stata la prima città in cui è sorta una università, però primo comune sicuramente. E poi potete andare a vedere, a sbirciare, insomma, quali sono le vostre città preferite e quando si sono costituite come dei comuni. Insomma, l'età feudale, quindi l'età che si è sviluppata negli anni dell'impero carolingio, aveva i suoi centri nelle campagne, attorno ai castelli, attorno ai monasteri. La vita urbana era decaduta, purtroppo, in quei secoli, i secoli dell'Alto Medioevo. Ecco, infatti, dobbiamo capire una cosa fondamentale quando parliamo di Medioevo, che l'Alto Medioevo è totalmente diverso rispetto al Basso Medioevo. Ecco, oggi parleremo di questo inizio del Basso Medioevo, che rappresenta una grande rivoluzione rispetto all'Alto Medioevo, perché non c'è più, diciamo, il focus sul contado, ma sulle città. Solo in alcune aree di urbanizzazione più antica, dell'Italia, della Francia del Sud, della Spagna, le città avevano continuato a mantenere un certo ruolo anche durante l'epoca carolingia, per esempio, anche durante l'Alto Medioevo, perché magari erano sedi vescovili, ma indubbiamente su una scala più ridotta rispetto al periodo precedente dell'Impero Romano. Sta di fatto, però, che a partire dall'XI secolo cambia qualcosa. La vita urbana riprende. Proviamo a testimoniare questo, a mostrare questo, attraverso una serie di piantine della città di Bologna, che ci mostrano qual era l'estensione della Bologna romana, cioè Bononia, la città dei Galli Boi, era stata poi ovviamente civilizzata dai Romani e costituita come una sorta di quadrilatero, chiamiamolo così, sulla falsa riga dell'accampamento romano, era stata costituita ed corrisponde ancora oggi, in buona sostanza, al centro storico della città di Bologna. Questa era la sua estensione per gli amici di YouTube che la possono vedere. Ora andiamo a vedere come si era ridotta questa città nel periodo dell'Alto Medioevo. Come vedete, si era quasi dimezzata l'area di urbanizzazione della città. Ebbene, sta di fatto che la città poi riprende, abbiamo già visto che intorno al 1100 si costituisce come comune, emancipandosi appunto dal potere del Papa, perché era all'interno dello Stato Pontificio e incomincia a espandersi, fino al momento in cui intorno alla fine del XII secolo viene costruita la seconda cinta muraria, si intende seconda, perché probabilmente i Romani avevano una loro cinta muraria che magari gli alto medievali, insomma, avevano sfruttato, almeno in parte, per potersi difendere. Ma ormai questa prima cinta muraria romana non è più sufficiente per accogliere i cittadini che si stanno espandendo, pensate appunto all'università, l'abbiamo citata prima, no? E così si allarga, si allarga, fino a dover inglobare altri quartieri, altre zone. E quindi viene costruita una seconda cinta muraria, alla fine del XII secolo. Adesso guardate un po' come davvero raddoppia quasi il territorio della comune di Bologna, solo un secolo dopo, quando saranno costrati i bolognesi a costituire una terza cinta, muraria, quindi una terza cinta muraria, alla metà del XIII secolo. Potete intravedere alcune torri che facevano un po' da ponte, anche ovviamente nei pressi delle porte della città, perché Bologna era la città delle mille torri, cioè ne aveva tantissime di torri la città di Bologna. Nel senso che i palazzi dei grandi ricchi dell'epoca erano caratterizzati proprio spesso da queste torri. Ebbene, queste cose che avvengono appunto a Bologna le possiamo ritrovare anche, per esempio, in altri centri, centri dell'Europa del nord, per esempio ad Hamburgo, a Lubecca, a Danzica, quindi anche nord-est, perché queste città commerciavano con il Baltico, quindi con le regioni del Mar Baltico o della Scandinavia. Oppure si formano le città dei comuni indipendenti a Bruges e questo sarà un po' il prodromo di quello che avverrà nei secoli seguenti con la Lega Anseatica, quando nelle Fiandre si creeranno delle città, pensate ad Anversa e Amsterdam, che saranno centro di traffici commerciali importantissimi. Diciamo quindi che l'imperatore concede una certa autonomia a queste città portuali del nord, appunto abbiamo visto, della Germania o anche di altre regioni limitrofe, confinanti con la Germania a est o ad ovest. E la stessa cosa avviene in Italia, anzi avviene ancora di più, molto molto di più in Italia. C'è proprio un fiorire, un rifiorire di città, una rinascita, appunto, delle città dopo l'anno 1000. È un effetto dell'incremento demografico, ma soprattutto dello spostamento della popolazione dalle campagne, dal contado verso la città. La città ricomincia a offrire delle opportunità di lavoro e le persone si affrancano da quella servitù della gleba che abbiamo visto caratterizzare il periodo del feudalesimo. Contestualmente c'è la nascita, lo sviluppo delle repubbliche marinare. La rinascita dei commerci che caratterizzò l'XI secolo fu anticipata proprio da queste quattro città italiane. E qui vedete i loro stemmi. Amalfi, Pisa, Genova, Venezia. Leggiamolo così, in senso anti-orario, questo circolo, insomma, delle quattro repubbliche marinare, perché Amalfi è indubbiamente quella che si afferma per prima. Sono concorrenti fra di loro. Per esempio, Amalfi a un certo punto entra in conflitto con Pisa e Pisa è molto più agguerrita. E infatti nel 1135 Pisa saccheggiò Amalfi, tra l'altro portando molti beni, molte ricchezze anche in città e gloriandosi di poterle mettere nel duomo di Pisa. Poi ancora Pisa e Genova, che si erano alleate per cacciare gli arabi, a un certo punto diventano concorrenti dal punto di vista commerciale sul mare Tirreno. Fino a quando nel 1284 Genova sconfigge Pisa. E ancora Genova e Venezia andranno a scontrarsi fra di loro fino a quando non prevarrà Venezia. Abbiamo comunque già fatto una lezione insieme proprio in uno di questi video, di queste dirette video su Amalfi, quindi caratterizzata da queste novità straordinarie che sono le carte nautiche, qua ne potete vedere una, la bussola, la bussola inventata dagli arabi, arriva in Italia proprio grazie agli amalfitani che la usano, è il primo codice di diritto commerciale marittimo, quindi veramente le cosiddette tavole amalfitane, veramente una città marinara molto, molto vivace. Poi dopo parlavamo di Pisa, Pisa che si affacciava sul mare all'altezza della foce del fiume Arno, adesso invece la foce del fiume Arno è molto più avanti e Pisa è all'interno. Raggiunse l'apice dello splendore tra il XII e il XIII secolo, quando le sue navi controllavano le rotte nella zona occidentale del Mediterraneo, dalla Sardegna fino alla Corsica. Poi però nel 1284 Pisa fu sconfitta dalla Repubblica di Genova nella famosa battaglia navale della Meloria e da lì in poi ci fu la decadenza definitiva della potenza pisana. A questo punto Genova crebbe ulteriormente, grazie alla flotta e grazie anche al controllo dell'entroterra ligure. Abbiamo già detto che i loro due insieme, Pisa e Genova, sconfissero i musulmani, li cacciarono dalla Sardegna nel 1022, dalla Corsica nel 1091 e poi Genova domina i commerci, i traffici, non solo sul Tirreno ma anche verso l'Africa. Perfino si spingono le navi genovesi fino alle Fiandre e fino all'Oriente, come potete vedere in questa cartina. Poi, come vi stavo spiegando anche prima, venne a confliggere con Venezia. Venezia era enormemente cresciuta, proprio tra il XII e il XIII secolo, approfittando proprio del fatto che l'imperatore, come vedremo le prossime volte, lottava con i comuni, appunto vedremo con la Lega Lombarda, la battaglia di Legnano, persa appunto dall'imperatore, oppure lottava con il Papa per la lotta delle investiture di cui stavate parlando ancora prima voi. E allora Venezia approfittò di questo, tra virgolette, vuoto di potere, si consolidò come dominatrice commerciale sulle rotte del Mediterraneo, negli scambi con l'Oriente. Se osserviamo questa cartina, vediamo come si sviluppano, soprattutto verso l'Oriente, i traffici commerciali di Venezia, anzi addirittura le conquiste e le espansioni, nel senso che molte città della Dalmazia, piuttosto che zone addirittura della Grecia o isole, come l'isola di Candia o l'isola di Cipro, diventarono un acquisto territoriale veneziano. E' tutto questo sicuramente, fino al XVI secolo, fino al 1500, quando cominciò la decadenza anche di Venezia. Tutto questo favorì comunque, era parallelo, insomma, alla espansione e alla rinascita dei comuni nell'entroterra, all'interno. Ecco, a questo punto andiamo al cuore dell'incontro di oggi, quando noi ci mettiamo a parlare un po' della parola comune. Perché queste città adesso avevano chiamate comuni? Beh, dovete sapere che spesso si creavano delle associazioni fra le persone che avevano interessi comuni. Ecco, da qui la parola, no? Ad esempio delle confraternite religiose. Ma a noi interessano soprattutto le associazioni professionali, le arti e corporazioni, così le chiamavano all'epoca in Italia, oppure all'estero le chiamavano le gilde. C'erano sicuramente anche le consorterie nobiliari. C'erano common land, la terra comune, insomma, per i proprietari terrieri. Ma a noi interessa in particolar modo, dicevamo, la questione delle arti e corporazioni. Questa va in parallelo con la crescita di una classe sociale importantissima, che è quella della borghesia. Chi è il borghese? Beh, originariamente abbiamo visto nell'età feudale, al centro della società c'era il castello, quindi la proprietà del signore. In genere, fuori dal castello c'era il borgo, oppure il borgo poteva essere anche inglobato entro le mura del castello. I borghesi si contrapponevano ai signori, quindi ai conti e marchesi e ai duchi, perché vivevano nel borgo e perché dovevano lavorare per vivere, mentre invece il signore era un proprietario e quindi viveva alle spalle del lavoro degli altri. Ecco, come stavamo spiegando prima, questi borghesi, che possono essere degli artigiani, pensate appunto al borgo, pensate magari a delle botteghe, no? La gente che poteva vivere smerciando, quindi vendendo dei beni. E quindi sicuramente i borghesi sono degli artigiani o comunque dei commercianti. E se sono commercianti, possono essere anche mercanti che escono ben fuori, diciamo, dal borgo e vanno a commerciare lungo vie generalmente marine. Come abbiamo visto prima, facevano i mercanti genovesi e veneziani, abbiamo visto con quelle cartine, no? Abbiamo visto fin dove si spingevano. Ecco quindi che questi borghesi poi, a un certo punto, si mettono insieme. Abbiamo già parlato infatti delle arti e delle corporazioni, per esempio tutti quelli che svolgevano lo stesso lavoro, nel senso che lavoravano oppure commerciavano nello stesso campo. Insomma, sono dei cittadini che vogliono difendere i propri diritti e gli interessi di fronte al signore feudale o al vescovo. Beh, il vescovo non è sempre una persona così negativa per il comune, perché generalmente si trattava, cioè i vescovi erano delle persone che avevano, volevo dire scusate, delle autorità religiose che avevano favorito una certa vivacità, una certa indipendenza, una certa autonomia rispetto al potere imperiale. Certe volte i vescovi, l'abbiamo visto anche parlando addirittura dell'epoca romana oppure anche dell'epoca medievale, avevano preso il posto dell'amministrazione politica che era spesso assente. Però a un certo punto dicevamo che i borghesi hanno bisogno comunque di affrancarsi anche dal potere del vescovo e si danno un autogoverno. Questo sicuramente è un elemento importante. Abbiamo visto in generale l'affresco degli effetti del buon governo. Questi sono solo gli effetti del buon governo. Poi c'è anche una specie di allegoria del buon governo. Qui in particolare di questa allegoria del buon governo si tratta di affreschi che si trovano nel Palazzo Pubblico di Siena e sono stati realizzati, quindi dipinti da Ambrogio Lorenzetti tra il 1338 e il 1339. Era un periodo in cui la Siena dei nove, i nove magistrati che erano a capo della città, era un comune potentissimo. Ecco, per esempio proprio quando c'è l'allegoria del buon governo compare una figura che viene così definita come una specie di cartiglio o di incisione lapidaria. Viene definita la concordia. I borghesi proprio mostrano in questo periodo questa concordia di intenti, questa associazione di interessi, di intenti professionali, politici e questo porta, una volta che si afferma questo, ad un autogoverno. Cioè i borghesi decidono di autogovernarsi. In realtà all'inizio sono soprattutto i nobili perché in città comunque ci sono dei nobili, ci sono delle famiglie nobili di antica data. E allora sono loro i primi effettivamente a prendere in mano le redini di queste compagini cittadine. Un'altra cosa importante è che ci si può governare solo se si ha un orizzonte comune di valori, non solo di interessi. Ecco perché si parla di concordia. Concordia, proprio letteralmente, etimologicamente, è avere lo stesso cuore, cioè avere gli stessi ideali. Ecco così che si crea un comune attorno ad una piazza e questa piazza generalmente è caratterizzata, come vedete, questa bellissima piazza grande ad Arezzo, che degrada, insomma, questo piano inclinato, chiamiamolo così, che la rende così suggestiva. Ecco, stavamo dicendo perché abbiamo messo la piazza qua. Perché la cosa fondamentale di questa nascita dei comuni è che il potere non viene più dall'alto, come avveniva generalmente per i regni o per gli imperi. Infatti, in quel caso, il re o l'imperatore diceva di essere stato investito da Dio, oppure anche dal papa. Comunque, si trattava sempre di un'investitura dall'alto, di un'investitura da Dio diretta o mediata attraverso il papa, dall'alto verso il basso. Il potere andava, in quel caso, dall'alto verso il basso. Nel caso del comune, invece, il potere viene dal basso. Comunque, il comune è un fenomeno complesso, diversificato. Noi stiamo cercando di standardizzarlo oggi, ma in realtà dovremmo parlare di comuni più che di comune in generale. Facciamo una specie di semplificazione ad uso scolastico, se vogliamo. Però è veramente molto affascinante andare a scoprire, invece, tutte le diversità e quindi le caratteristiche dei singoli comuni. Ecco, questo, per esempio, è un atto importantissimo che, in buona sostanza, testimonia della nascita del comune di Bologna. Nel senso che Enrico V, l'imperatore dell'epoca, nel 1116, decreta il privilegio dei bolognesi, cioè, in buona sostanza, la possibilità dell'autogoverno dei bolognesi, cioè l'autonomia dei bolognesi, che possono riscuotere tasse. Infatti, ecco, l'autogoverno. L'autogoverno vuol dire tutta una serie di cose. Quindi, per esempio, eseguire opere pubbliche, amministrare la giustizia, arruolare delle milizie, coniare monete. Ecco, quando i comuni possono fare questo, diventano totalmente indipendenti e autonomi, di fatto, rispetto al potere centralizzato dell'imperatore o del papa. In particolar modo, poi, in generale, comunque, anche prima che nascessero i comuni, il potere del papa era un pochettino meno diretto rispetto a quello dell'imperatore. Ecco il motivo per cui vedremo le prossime volte, quando parleremo della lotta fra i comuni e Federico Barbarossa, ecco perché i comuni, almeno in questo periodo, in gran parte diventano comuni guelfi, quindi filopapali, proprio perché, diciamo così, le catene papali sono sicuramente meno rigide rispetto a quelle imperiali. Ecco, abbiamo visto quindi questo privilegio. Qui vediamo, purtroppo non sono rimaste tutte le torri, ce ne erano tantissime nella città di Bologna, però queste due sicuramente le conoscerete, sono famose, sono la torre Garisenda e la torre degli Asinelli a Bologna. Perché? Perché la città, è vero, si espande, l'abbiamo visto prima, abbiamo visto le mura, però spesso i ricchi borghesi del popolo grasso, come dire, espandono e creano dei palazzi alti, quindi anche con queste torri, perché comunque il terreno a disposizione entro la cinta delle mura non è sempre così tanto. E poi anche per un valore difensivo. Le torri, insomma, sono degli edifici multifunzione, chiamiamoli così, perché possono essere delle fortezze, e infatti spesso hanno i merli, dai quali si può magari attaccare o difendersi da degli assalitori, dagli assedianti. Poi possono essere magazzino, possono essere prigioni, oppure, come abbiamo spiegato prima, possono essere semplicemente il palazzo del Signore che si espande in altezza, visto che non è possibile, per mancanza di spazi, espandersi in larghezza. Ecco, quali sono questi privilegi? Abbiamo visto, per esempio, che Enrico V assegna al Comune di Bologna. Beh, si tratta di diritti, come ad esempio esenzioni fiscali, cioè il Comune non deve più versare delle tasse all'imperatore o al Papa, oppure le versa solamente quando c'è il passaggio dell'imperatore, quindi una tantum. Poi ancora, può iniziare ad avere degli alti magistrati, chiamiamoli così, cioè rappresentanti che si affiancano all'autorità locale, ad esempio, del Vescovo. Mi viene in mente il Vescovo Ariberto d'Intignano, che è un Vescovo importante di quest'epoca. Poi, piano piano, piano piano, queste altre autorità sostituiscono, per lo più in modo pacifico comunque, assolutamente, l'autorità del Vescovo. Il Comune, come abbiamo già visto, è caratterizzato spesso al centro del Comune, c'è una piazza, e a fianco, sui lati di questa piazza, spesso si trovano questi edifici di cui abbiamo già parlato prima, cioè la chiesa cattedrale, che viene chiamata così perché c'è la cattedra, quindi la sedia del Vescovo, che è immagine della magnificenza del Comune. E infatti, come abbiamo visto già prima parlando del Duomo di Pisa, in generale comunque i cittadini vogliono che la loro chiesa sia la più bella possibile, perché questo testimonia e dimostra della potenza del Comune. Poi c'è il Palazzo Comunale, chiamato anche Broletto, dove si tengono le assemblee pubbliche. Le assemblee possono essere di vario tipo, no? All'inizio, per esempio, ci sono gli Arenghi, che sono assemblee solamente dei nobili. E poi, via via, mano a mano, si crea un regime sempre più democratico, sempre più popolare, e quindi con la possibilità di aprire le assemblee a tutti, generalmente, però, a tutto il popolo. Attenzione però che la parola popolo, come per esempio quando si parla dell'Ottocento, no? Ricordate, noi quando facciamo letteratura dell'Ottocento e leggiamo Bershè o Manzoni, dobbiamo sempre avere in mente che quando Bershè o Manzoni parlano di popolo, in buona sostanza hanno in mente i borghesi e non i proletari. E più o meno la stessa cosa avveniva anche nel Medioevo. Nel senso che quando si parlava di popolo, questo era il popolo grasso e anche semmai il popolo minuto. Quindi tutti coloro che avevano una loro attività, comunque, ecco, più o meno, diciamo, ricca come attività. Mentre la plebe, generalmente, non prendeva parte a queste assemblee, men che meno, scusate, le donne. Allora, stavamo dicendo, c'è questa fase, insomma, in cui finalmente i comuni si autodeterminano. E questo, appunto, vedremo poi quali saranno le varie fasi di autogoverno del comune. Adesso però ci fermiamo un attimo perché vogliamo soffermare la nostra attenzione sulla borghesia. È una classe in ascesa in questo periodo. Qui vediamo, per esempio, l'interno di una bottega di epoca medievale. Il mercante segna con precisione le vendite sul suo registro di cassa. Per svolgere le attività mercantili era necessario saper leggere, scrivere e far di conto. Questo creerà presupposti per la nascita di scuole laiche. Quindi sappiamo che fino a questo periodo, in pratica, c'erano solamente scuole ecclesiastiche e gli unici che sapevano scrivere erano dei chierici. Era il clero, insomma. Ebbene, da questo momento in poi si creano, cioè, si creeranno, appunto, vi dicevo, delle scuole laiche che permetteranno, per esempio, ai mercanti di imparare anche la matematica, che è fondamentale quando si commercia. Ma anche le lettere, perché bisogna scrivere dei contratti, appunto, bisogna scrivere delle epistole, delle lettere, e questo poi soprattutto poi a chi diventa segretario di Stato, segretario del Comune, per non parlare dei notai e dei banchieri. Adesso però dobbiamo prendere un attimo il cavo, altrimenti qua su Instagram tra un po' si spegne il cellulare. Un secondo. Scusate, intanto facciamo la pausa, nel senso che ci siamo accorti che purtroppo la carica del cellulare stava terminando e non volevamo lasciare i nostri amici di Instagram senza che comparissimo ancora noi su Instagram. Eccolo qua, un comune medievale, lo vediamo, c'è la piazza, c'è il palazzo comunale, lontano il signore feudale che vive nel suo castello, non ha potere sui cittadini del comune, no? I contadini pagano i tributi alla città anche in natura, cioè danno il loro contributo, eh sì, questo sì, bisogna dirlo, bisogna pagare le tasse, perché questo comune possa autogovernarsi è necessario raccogliere i tributi da tutti i cittadini. Questa è la piazza in cui si tiene mercato e anche molte attività, certe volte anche delle assemblee, per carità, ma dobbiamo sapere anche una cosa, siccome purtroppo non è che ci sia sempre il sole e quindi spesso piove, ecco che vengono creati dei porticati, porticati che caratterizzano i comuni, anche qui stavolta mi viene in mente Bologna, Torino, ci sarà un famoso porticato di Torino, anche se Torino in questo periodo è poco più di un villaggetto e diventerà una città solamente intorno al 1600. Certe volte c'è un palazzo comunale che, diciamo nel piano terra, contiene una specie di mercato coperto o di porticato in cui è possibile fare commerci, traffici, incontri, discussioni e quant'altro. Tutto questo ci piace molto perché ci fa venire in mente appunto la democrazia, quindi il regime della Grecia antica che sta ritornando, se vogliamo, in questa fase comunale. Sappiamo, abbiamo appena letto il comune rustico di Carducci, quanto certi scrittori democratici esaltino questo periodo del comune, sempre però con il distinguo di cui abbiamo parlato prima, cioè i nullatenenti, piuttosto che le donne o anche in genere gli emarginati della società non potevano godere di tutti i diritti. Questo è lo speziale. Lo speziale svolgeva un'attività equivalente a quella degli odierni farmacisti, ma all'occorrenza la sua bottega si poteva trasformare anche in un ambulatorio medico. Ecco infatti il motivo per cui i medici e speziali erano insieme, come sappiamo, in una delle arti corporazioni di Firenze, è proprio quella cui si scrive Dante Alighieri. Ecco, che cosa caratterizza e distingue l'Italia rispetto alle città che si andavano sviluppando invece in Europa? Beh, anzitutto la prevalenza della nobiltà inurbata, cioè i valvassori del vescovo, cioè i feudatari del vescovo, sono coloro che, come abbiamo spiegato prima, saranno i primi a prendere potere nella città. Poi ancora la tendenza all'espansione fuori dalle mura. I comuni italiani diventano talmente forti e potenti che vanno a insediare i feudatari o i proprietari terrieri del contado e a inglobare il contado all'interno, diciamo così, della sfera di influenza politica del comune. E poi, soprattutto in Italia, si raggiungono, per la prima volta, forme di pieno autogoverno, non solo di autonomia amministrativa, come poteva accadere anche in certe città, diciamo portuali del nord Europa, ma anche di vero e proprio autogoverno. Quindi si può dire che fossero totalmente indipendenti, e l'abbiamo visto anche una delle ultime volte parlando della Repubblica di San Marino. Cioè, si creano delle vere e proprie repubbliche indipendenti, come fossero delle città-stato. Ecco, questa differenza indubbiamente i comuni italiani rispetto alle città portuali di cui abbiamo parlato prima, che invece mantengono una certa dipendenza dall'impero, che però concede a queste città forti autonomie. Quali sono le condizioni favorevoli allo sviluppo del comune italiano? Beh, c'è una condizione importantissima. Non ci sono delle monarchie forti, come ad esempio in Francia, e quindi si possono sviluppare maggiormente. Ecco anche il motivo però per cui non si creano comuni autonomi nel sud d'Italia, perché nel sud d'Italia al massimo ci sono solo capitali di un regno. Il regno del sud in questo periodo è sotto i normanni, che lo stanno conquistando, riconquistando gli arabi o ai precedenti dominatori, e creano uno stato fortemente accentrato e caratterizzato da un sistema feudale. Poi ancora, la lotta contro il clero corrotto che contrappone i cittadini al vescovo sarà la scusa, la giustificazione per affrancarsi totalmente anche dal potere del vescovo, che all'inizio è molto potente, forte insomma, in città. La lotta per le investiture. I papi e gli imperatori hanno bisogno di alleati, e quindi i comuni si alleano ora con l'uno, ora con l'altro, e quindi anche in questo caso mostrano di esistere, insomma, e quindi di avere un ruolo politico importante. E poi le stesse crociate. I signori feudali, abbiamo parlato la volta scorsa della prima, e poi parleremo la volta prossima della seconda crociata. I signori feudali sono costretti a concessioni per procurarsi il denaro necessario per le spedizioni delle crociate. E intanto i borghesi si arricchiscono. Qui vediamo, per esempio, rappresentate in questa miniatura tre botteghe. Una di calzature, qua sulla sinistra, una di stoffe e una di vasellame, per comodità, inserite all'interno dello stesso ambiente. Magari non era così, però insomma, per comodità. Insomma, si crea un vero e proprio laboratorio istituzionale. Un laboratorio, come sempre, è un posto in cui si va per sperimentazioni, per tentativi. E infatti, come vi stavo spiegando, non è sempre così facile standardizzare. Il comune, infatti, non ha un modello istituzionale stabile. Non c'è un comune uguale ad un altro. E subisce una continua evoluzione. Adesso, per semplificare enormemente, proviamo a suddividere, così come si fa appunto a livello scolastico, le tre fasi in cui, canonicamente, si esplica questo autogoverno dei comuni. La fase consolare, la fase podestarile e la fase popolare. Sempre però spiegando che si tratta di pure semplici generalizzazioni, semplificazioni di una realtà che generalmente è molto più complessa. Incominciamo con la fase consolare. Da quanto pare, i consoli non ci sono solamente nei comuni italiani. Se questa, per esempio, è un'assemblea di consoli della città francese di Tolosa, si tratta, insomma, di una formula questa che ha una sua fortuna proprio per la filiazione dalla Repubblica Romana. Quindi, di fronte a un potere centralizzato, accentratore, queste associazioni, dicevamo, corporazioni, associazioni di interessi, associazioni di privati, cittadini che si legano come una coniurazio, nel senso proprio etimologico del termine. Cittadini che giurano di fare fronte comune, giurano di seguire delle regole comuni e di avere uno scopo unico fra di loro. E' chiaro quindi che loro prendono come modello la Repubblica Romana e quindi proprio nella prima fase chiamano le loro alte magistrature consoli. A differenza però di Roma, da dove i consoli erano solamente due, spesso nei comuni ce n'erano più di due, quasi sempre di numero pari, ma spesso molti più di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici. E anche non in maniera così rigida era determinato il numero dei consoli, poteva essere aumentato a seconda delle necessità. Questi consoli, come vedete in questa miniatura, spesso si riunivano in un'assemblea, svolgevano appunto delle funzioni amministrative. Quindi le tasse che erano raccolte dai cittadini dovevano poi essere amministrate appunto per gli interessi comuni. I consoli avevano questo compito importante, fondamentale. Però perché non abusassero di questo potere, in genere avevano una carica di durata molto ristretta, ad esempio annuale o addirittura semestrale, annuale anche qui riprendendo il modello romano. Il comune, che non coinvolge però tutta la città in questa prima fase, ma solo i maggiorenti, cioè le persone appartenenti alle famiglie più in vista, si esprime nell'assemblea che allora si chiamava dell'Arengario, nominando i suoi rappresentanti i boni homines, cioè gli uomini onesti, istituzionalizzati nella figura dei consoli, una magistratura collettiva che regge la città all'inizio della storia di questi comuni. Cioè quando il comune conquista il suo potere politico, come abbiamo visto nella cartina all'inizio del nostro incontro, intorno al 1100 più o meno, abbiamo una fase consolare. È un po' la fase del cacciaguida, no? Proprio l'altriere abbiamo visto il cacciaguida, che appunto è un fiorentino del 1150, e ci parla della sua Firenze, la esalta, ma è una Firenze oligarchica, cioè una Firenze in cui il potere è in mano agli aristocratici, decisamente. Comunque già in questa fase incominciano ad esserci dei contrasti, delle lotte, perché queste famiglie più in vista spesso non sono così in buoni rapporti l'una con l'altra. A questo punto, proprio per sanare questi contrasti, loro decidono di affidare il potere supremo, la magistratura più alta della città, non più ad alcuni di loro, di queste famiglie, cosa che aveva ingenerato dei sospetti, delle gilosie, perfino delle faide, ma di affidarla ad un esterno, a un podestà. E così abbiamo la seconda fase, che è la fase podestarile. Oltretutto, in questa seconda fase, in questo secondo periodo, gli artigiani e i commercianti si arricchiscono moltissimo e quindi insidiano quel predominio oligarchico della nobiltà che aveva caratterizzato la prima fase. E questo è anche un periodo in cui si dà forma stabile alle istituzioni con la redazione di statuti comunali. Si ricorre, come vi stavo spiegando, quindi a un magistrato esterno, il podestà, che è straniero, è temporaneo, anche lui, cioè non è che sia la podestà a vita, no? Poteva essere garante fra le parti, però certamente, se tutte le parti convenivano nelle capacità, sulle capacità, volevo dire, di questo podestà, poteva restare in carica per un certo periodo di tempo. Intanto vediamo un'altra bellissima miniatura che ci mostra il borgo, cioè appunto tutte le varie botteghe. Sapete, c'era il popolo grasso che era rappresentato dagli altri mercanti, notai, banchieri, che era diverso rispetto al popolo minuto che era quello, magari, non so, dei calzolai, piuttosto che dei fornai. ormai, però, vi ripeto, erano tutti borghesi, no? E svolgevano le loro attività, appunto, nel borgo, quindi nella città. L'attività bancaria, abbiamo detto un popolo grasso, era molto remunerativa per i mercanti italiani, che arrivarono a prestare denaro perfino ai sovrani europei, tutte le volte quasi, ve la dico, la storia famosa dei Peruzzi, Bardi e Peruzzi, banchieri fiorentini, che prestano i soldi al re d'Inghilterra, salvo che poi, a un certo punto, il re d'Inghilterra è insolvente e quindi Bardi e Peruzzi falliscono. Si arriva, poi, a una terza importantissima fase, che viene così definita, la fase popolare, nel senso, però, che ho detto prima del popolo, cioè, intendendo per popolo, il popolo grasso e il popolo minuto, quindi i borghesi, che ormai decisamente hanno preso il potere all'interno della città, difendono i loro interessi, si associano con i propri rappresentanti, i gonfalonieri, i capitani del popolo. Ecco, infatti, spesso tra la fase podestarile e quella popolare, vi è proprio questa fase intermedia, cioè, l'elezione di un capitano del popolo. Magari c'è ancora il podestà o, addirittura, non so, magari ancora i consoli, però, i popoli, quindi, i borghesi, in buona sostanza, nominano, eleggono, un loro capitano del popolo. Ecco, questa è la fase che, indubbiamente, prelude ad una svolta in senso popolare, sempre con le virgolette che dobbiamo utilizzare per forza quando si usa un termine del genere. È proprio la fase, questa, ad esempio, della comune di Firenze alla fine del 1200, quando, addirittura, i nobili non possono più neanche avere un ruolo, un potere all'interno della città. E bisogna, per forza, essere iscritti alle arti e corporazioni, quindi, le corporazioni di arti e mestieri. qui ci si poteva iscrivere solo se si era dei borghesi oppure dei piccoli nobili, della piccola nobiltà come il nostro Dante Alighieri, appunto, che si iscrive alla corporazione dei medici e degli speciali, anche se lui originariamente non era un borghese, ma era un nobile, anche se di una nobiltà un po' decaduta e inferiore. Oh, qui vediamo un'altra bellissima piazza, la piazza del campo, quella dove si corre il pario di Siena, col palazzo pubblico e la torre del Mangia a Siena. E quindi poi l'ultima foto di grande palazzo comunale che vi faccio vedere è quello di Firenze. Definito anche palazzo della signoria perché poi Firenze diventa una signoria e questo palazzo diventa il palazzo del potere dei signori di Firenze, ma prima in precedenza era stato il palazzo del comune. Quindi dalla metà del XIII secolo addirittura a Bologna dal 1228 a Firenze nel 1250 il popolo conquista il controllo della città riducendo il ruolo dei magnati, quindi dei nobili e dei ricchi. Ecco, infatti proprio intorno al 1250 per la prima volta prevale il partito dei Guelfi a Firenze. Poi in realtà i Ghibellini continueranno a combattere con i Guelfi ancora per una quindicina di anni circa, ma poi nel 1266 i Ghibellini verranno cacciati definitivamente e generalmente i Ghibellini appartenevano alle famiglie aristocratiche alleate con l'imperatore appunto, mentre invece i Guelfi tra virgolette anche qui dobbiamo usare molto le virgolette filopapali erano semplicemente dalla parte del Papa solo ed esclusivamente perché il Papa era meno invadente rispetto all'imperatore. Il Papa non avrebbe mai fatto una guerra contro i comuni come invece vedremo la prossima volta fece Federico Barbarossa. Oltretutto adesso stiamo facendo un discorso ideale ideologico ma dobbiamo fare anche dei discorsi economici come sapete benissimo ad esempio i donati erano i banchieri del Papa ecco anche perché erano così legati al Papa e i Guelfi neri si distinguono fortemente rispetto ai Guelfi bianchi perché i Guelfi bianchi non amano essere così legati o dipendere in maniera così stretta dal Papa. Ma queste sono cose che probabilmente già sapete e ne riparleremo ancora. È arrivata quindi la fine della nostra lezione del nostro incontro giusto giusto per farvi vedere un'ultima cartina riguardo a un periodo che comunque è un po' più in là rispetto al periodo di cui abbiamo parlato oggi l'Italia politica intorno al 1300 se la guardate con attenzione non è molto diversa dall'Italia politica intorno al 1000 nel senso che c'è l'imperatore che è anche re d'Italia teoricamente perché poi di fatto queste città nel nord e nel centro d'Italia nel corso di questi secoli lo vedremo la prossima volta con le lotte appunto tra i comuni italiani e Barbarossa si sono decisamente affrancate rispetto all'imperatore. Poi c'è lo stato della chiesa anche qua lo stato della chiesa dobbiamo distinguere perché ci sono delle delle regioni insomma dello stato della chiesa tipo per esempio Lazio o Marche e Umbria del Sud che sono decisamente più come dire assoggettate al Papa e altre invece in cui ci sono comuni comuni e signorie che si diffondono anche nel territorio che teoricamente è quello dello stato della chiesa poi le due repubbliche marinare di Venezia e Genova che si sono imposte anche rispetto alle altre due precedenti di Amalfi e di Pisa è però un periodo bellissimo questo il periodo dei comuni perché è il periodo delle cattedrali delle piazze delle cinte murarie abbiamo detto del palazzo della ragione che era il palazzo della giustizia però spesso poteva come abbiamo spiegato anche avere anche altri spazi questo palazzo della ragione dove c'erano porticati si poteva commerciare e e quindi anche poi il palazzo della ragione il palazzo di giustizia ma poi c'è il palazzo comunale che è il palazzo del potere il broletto e certe volte comunque questi due palazzi possono essere un palazzo solo o possono essere uniti l'uno all'altro abbiamo già detto non dobbiamo cercare di semplificare troppo e c'erano i mercanti nel borgo nella città che spesso si univano nella stessa via ecco perché per esempio a Milano c'è la via degli orefici la via dei mercanti famosissime queste due vie a Milano oppure in altre in altre città c'è la via dei calzolai e e poi ci sono le università qui abbiamo accennato anche che sono un'altra bellissima davvero grandissima come dire conquista dei comuni le università nella quale si studia diritto senz'altro ma poi mano a mano anche tante altre arti liberali e non solo nell'ambito umanistico come la retorica che era importante comunque per gli scrivani no? la dialettica ma anche arti diciamo tra virgolette quali scienze in un certo senso quali la matematica l'astronomia alla musica bene arrivato il momento adesso di leggere i vostri commenti su youtube così intanto salutiamo anche i nostri amici Giuse, Manuel, Melvin, Alda li abbiamo già salutati e anche Paolo a proposito del sistema feudale quando e in quale posizione geografica si forma il sistema feudale si forma in tutta Europa abbiamo detto che il punto di riferimento è Carlo Magno che nomina i suoi conti duchi e marchesi si tratta quindi di un sistema molto parcellizzato frammentario se vogliamo poiché il signore feudale in buona sostanza nel suo territorio è un padrone assoluto ed è un proprietario terriero e costruisce i castelli soprattutto poi verso il novecento e quindi di queste cose abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti che abbiamo fatto sul feudalesimo sul feudo che viene concesso appunto dal signore a questo vassallo sul beneficio e sul rapporto però di fedeltà che lega il vassallo al suo signore ad esempio deve combattere per il suo signore ah sì erano molto di più le repubbliche marinare professore lo sappiamo assolutamente l'abbiamo già visto me l'avete detto anche voi molte per esempio anche sul mare Adriatico sia sulla sponda italiana sia addirittura sulla sponda dalmata le città marinare assolutamente lo sappiamo noi anche qua stiamo un po' semplificando quando parliamo solo di queste quattro sono perfettamente d'accordo i genovesi hanno vinto contro i pisani con l'inganno la battaglia della memoria della meloria scusate non voglio entrare nei campalinismi però perché assolutamente non vorrei fare torti ai genovesi o ai pisani non sono uno come Dante che ce l'ha a morte con gli uni o con gli altri parla male sia dei genovesi sia dei pisani Dante lo sapete sicuramente poi ancora perché si parla di rivoluzione sociale relativamente all'organizzazione dell'esercito dei cavalieri beh anche insomma gli ordini cavallereschi o comunque in generale il cavaliere medievale all'inizio è semplicemente un cadetto tra virgolette quindi non è il primo genito di una famiglia ma poi dopo sicuramente può generare un certo dinamismo sociale anche l'esercito dei cavalieri ecco Ragusa Ravenna Ancona Lecce senz'altro la società dell'alto medioevo era una società in cui effettivamente molto piramidale ecco chiamiamola così quindi c'era la vetta il re l'imperatore poi man mano le varie classi sociali proprio anche addirittura gli stessi feudatari dai vassalli poi c'erano i valvassori i valvassini e poi via via tutte le altre classi sociali con una borghesia degli artigiani che erano allora durante il periodo fondamentale del feudalesimo minoritaria e con diciamo la plebe fatta di braccianti che era un po' la base della della piramide sociale trieste è sempre stata una città stato porto franco trieste è stata una città un porto giustamente porto spesso lo associamo a franco che ha avuto periodi di grande importanza di grande rilievo di grande potenza poi è dovuto un po' sottostare nei periodi in cui venezia diciamo è diventata potente un po' trieste e venezia hanno avuto un destino altalenante quando l'una era si innalzava l'altra era in gravi difficoltà trieste in modo particolare ha soggettato a venezia per parecchi secoli i comuni più grandi tendono poi a fagogitare i comuni più piccoli quindi sicuramente c'è ci sono delle dinamiche spesso anche piuttosto forti insomma violente ecco fra i comuni questo oggi noi abbiamo non dico esaltato il comune ma espresso alcuni pensieri diciamo così di grande entusiasmo riguardo a questa rinascita delle città dopo l'anno 1000 però ci sono anche delle contraddizioni ci sono anche delle violenze delle lotte delle guerre continue fra i comuni Dante per esempio era uno che non ne poteva più dei comuni perché perché insomma alla sua epoca si versava tanto sangue ecco all'interno dei comuni le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini incominciano ad esserci in Italia in buona sostanza dal 1200 in poi in Germania nascono le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini ma ne parleremo la prossima volta proprio con Federico I Barbarossa o qualche anno prima ecco anzi lui è stato in grado in un certo senso di placare i contrasti fra questa come dire le fazioni dei Ghibellini Webling Castello di Webling che in buona sostanza erano gli svevi da cui lui stesso proveniva con le fazioni dei Guelfi della Baviera signori quindi della Germania meridionale con cui lui però si imparenta diciamo e quindi riesce finalmente a placare le lotte interne alla Germania per focalizzarsi quindi per la prima volta nella ripresa del potere in Italia perché in Italia nel frattempo come abbiamo visto sono nati comuni sono diventati autonomi indipendenti hanno esautorato il potere dell'imperatore invece lui Federico Barbarossa vuole riaffermarlo le regalie dell'imperatore qual era l'occupazione lavorativa prevalente prima del mille ma prima del mille scusami si lavorava la terra ed erano marginali gli altri mestieri o professioni è dopo il mille che compaiono tutte le professioni di cui vi ho parlato prima compresa quella dei professori la professione dei professori universitari che si uniscono con un contratto privato con gli studenti perché le università sono autonome rispetto al comune attenzione cioè il comune è sicuramente ben contento della presenza pensate a Bologna di una universitas studiorum di un insieme una corporazione di studio di studenti di professori però si organizzano da soli gli studenti e i professori è qualcosa di privato non di pubblico l'università nasce come privata cioè noi studenti paghiamo i nostri professori non so se se vi può interessare questa cosa ma molto molto interessante io direi grazie a tutti grazie a tutti